ma ora io dico no cosa ci vuole a fare una cosa così bella anche in una nuova costruzione che ne so a valona non così in grande perché vivo a valona o a milano come aveva fatto berlusconi anni 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 fa è veramente bella ma se consideriamo che è un ammasso di cemento e di acciaio con queste oasi alla fine non è che ci vuole proprio un genio veramente bellissima dubai eccolo lì quello di bus califa con le sue piscine carla mi sta costringendo a fare questa passeggiata non so se ce la farò qui si vede bene questo è il bus califa e tutte le piscine con le fontane mamma mia qui si vede veramente bene il bus califa con le sue piscine e fontane mamma mia non ce la posso fare guarda cosa sto facendo per te esagerato quanto piangi con le mie nuove scarpe della sketcher mamma mia ragazzi ce l'ho fatta ce l'ho fatta avete visto in quanto poco tempo ma ce l'ho fatta e eccoci qui in questa posizione incredibile ho appena fatto 50 anni e non so se riuscirò a superare questo avvenimento tanta roba guarda dove sono eccomi bella vieni carla che prima urlavano tutti e non si sentiva quello che dicevo dove siamo? questo minchia di bambino che si è messo a saltare su e ha fatto tremare tutto ma non la taglio bella ecco quelle persone lì sono veramente matte cioè vi rendete conto di dove si stanno lo faccio vedere perché forse non l'avete capito saranno sospesi no vabbè bene anche questa paura l'abbiamo sconfitta voi sapete come si chiama il mio team? il mio team si chiama team scimmia bella guardate lì il cucciolino di squalo ed eccoli qua guardate gli squali le mante piccolini eh guardate quante grande questo acquario con le persone davanti bene questo qua è il centro commerciale quello Dubai Mall il più grande con dietro l'acquario il centro commerciale gli squali c'è anche la la gabbia perché c'è un sottomani non la sopra lo vedete ecco l'acquario lì invece è un balcone col vetro che si vede si sto raccontando, si paga e si può godere di questa avventura. E dentro il mall, guarda che bella questa struttura, struttura perché è una cascata con questi uomini che sembra che si tuffano, veramente bella, guarda. Dubai fa le cose veramente in grande. La cascata che avete visto di là gira tutto attorno, è bellissima, veramente enorme e poi c'è anche una piccronina con il cuore dove ovviamente andrò a fare la foto con Carla.